Le elezioni del Consiglio Provinciale hanno dato un risponso inedito, dividendo l'assise con sei consiglieri per il centrosinistra e altrettanti per il centrodestra. Quest'ultimo rivendica i 7.000 voti in più ottenuti alle urne, che creano un vantaggio però non sufficiente a svoltare con un settimo consigliere. Quel vantaggio che invece si costruisce il centrosinistra con il voto del presidente Paolini, che restava comunque in carica, è strano a questa tornata elettorale. Una situazione inedita, in cui, a detta del rieletto Palmi Rucchielli, occorrerà un lavoro di condivisione di intenti che superi le contrapposizioni politiche. Io penso che si poteva evitare un tentativo di strafare da parte del centrodestra sulla provincia di Peso Urbino, ma anche su quella di Ancona. Le province oggi vivono un momento particolare e bisognerebbe lavorare insieme. Infatti l'elettorato, che è molto intelligente, cosa ha fatto? 6 a 6, palla al centro. Col presidente quindi si mantiene la maggioranza il centrosinistra. Mi pare un boomerang dal punto di vista del centrodestra. Sono un po' dispiaciuto che il collega di Urbino e il collega di Caglia non sono stati eletti, però bisogna lavorare insieme. Lavorare insieme significa avere un rispetto reciproco, collaborare nelle Marche con la regione, con la provincia. Io sono stato eletto recentemente, riconfermato presidente dell'Unione dei Comuni, che è la più grande Unione dei Comuni delle Marche, che ha portato a casa, grazie a un lavoro di rapporti di collaborazione con la regione, 11 milioni di euro che ne pesero, tanto meno Vallefoglia avrebbe mai avuto se non ci fosse stata l'Unione dei Comuni. Con la regione cercheremo di lavorare su altri progetti. Penso al contratto di fiume, che riguarda tutta la vallata, dove ci sono beni da recuperare, come la storia delle vecchie chiese antiche, come il sistema dei calanchi da fare i rimboschimenti, tante cose da lavorare insieme, evitando le polemiche. Fondamentalmente la gente pensa che bisogna lavorare per il bene comune. Quindi credo che il nuovo Consiglio Provinciale, dove il Presidente Paolini ha una maggioranza, 7 consiglieri su 13, però dovrà lavorare insieme anche con gli altri 6 consiglieri. Del resto fondamentalmente sono quasi tutti i sindaci. I sindaci sono di tutti, rappresentano la comunità.